Riprendiamo le nostre lezioncine. Oggi disegniamo una foglia con l'aiuto delle figure geometriche. Ho disegnato un cerchio sul mio foglio a quadretti, lo vado a duplicare e notate che la sovrapposizione già mi dà l'idea di avere ricavato una foglia. Stilizzata. Questo è un programma di grafica vettoriale che mi permette di giostrare con le forme, allungare, dividere, colorare, riempire, svuotare e compagnia bella. In questo caso sto clonando la mia foglia. Clonata la foglia, le assemblo e vado a duplicare ulteriormente il mio lavoro per ottenere così facilmente un quadrifoglio. Con questo vi spiego che tutti possono disegnare con l'aiuto del foglio a quadretti ma soprattutto utilizzando varie forme geometriche. Abbiamo usato in questo caso dei cerchi ma possiamo usare anche quadrati, rombi, rettangoli, triangoli. Ecco un albero che io ho disegnato così molto velocemente e adesso su quest'albero posso disegnare le mie foglie e quindi completarlo utilizzando sempre le foglioline stilizzate. Io adesso vado veloce ma questo per non inchiodare chi mi guarda e stare lì con la noia di un professore no. Quello che io faccio in questo caso è dare un input al talento della persona quindi io non voglio che dalle mie lezioni esce il mio clone perché in questo caso io non sono un professore ma uno che dà lezioni di fai come faccio io. L'allievo quando andrà poi a presentare i suoi lavori diranno ah ma questo è uguale al professore sbagliato negativo quindi occio quando uscite dalle scuole soprattutto di fumetto il professore deve scovare il talento non fare dei cloni ciao 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 Grazie a tutti